Con la scomparsa di Nicola Cucullo se ne va un pezzo importante di storia politica regionale e teatina di destra. L'ex sindaco che avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 16 settembre era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale civile di Guardia Grele. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano via via peggiorate con la comparsa nel weekend di una febbre molto alta che non gli ha lasciato scampo. Cucullo fu sindaco di Chieti dal 1993 al 2004 per quasi tre mandati consecutivi. Forte oppositore del monocolore democristiano agli inizi degli anni 90 nel 1993 con il vento di Tangentopoli e lo scioglimento del consiglio comunale il 2 febbraio le elezioni premiarono il geometra nato politicamente nel movimento sociale italiano e che si impose su Gianfranco Conti. Cucullo amatissimo dalla sua gente fu rieletto nel 1997 quando riuscì a prevalere sull'ex rettore dell'università Gabriele D'Annunzio, Uberto Crescenti. Nelle 2000 un nuovo colpo di scena con le dimissioni dei consiglieri di centro-sinistra e di una parte del centro-destra e il nuovo ricorso alle urne con il successo di Cucullo, questa volta a spese dell'urologo Raffaele Tenaglia. Poi il ritiro dalla vita politica attiva, anche se con il cuore l'ex sindaco è rimasto fino a ieri a Palazzo d'Aquilio.